Un cordiale buongiorno dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, il mio studio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete stradale e autostradale da segnalare per il momento, solamente code a tratti in A1 tra Calenzano, Sesto, Fiorentino e il Vivio con la variante del Valico a causa del traffico intenso in direzione Bologna. Passiamo al traffico aereo, il volo proveniente da Doha è atteso a Pisa alle 13.35, atterrerà alle 13.55. Treni il regionale 23.40, diretto da Roma Termini a Pisa Centrale, viaggia con 19 minuti di ritardo. Ferma a Grosseto alle 14.44, arriva a Pisa alle 16.34. Chiudiamo con i traghetti, la corsa Toremar da Piombino a Cavo e Portoferraio delle 14.55 è cancellata. Muoversi in Toscana Info, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!